Lasciamola, noi andiamo a portare l'autobus, ora ci vediamo in piazza. Allora, dica che ci metto a quadrino. A quadrino da ogni caso. No, te va anche a vendere, in inglese è poca gente. Aspetta, che sei dottor Givago, grande, arrivo qua. Vai dottore. Ehi, ma andiamo a guarda, Siena. Non c'è nessuno. No, ma che? L'emoroidi, o l'emoroidi, o l'emoroidi, la 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 la. Guarda qua. Brava, bravissima. Beh, bravissima. Non c'è nessuno. Luca, spostite che es monta Dennis Vai Dennis, 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 Dennis Dennis, 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 Dennis Ciao Delis, sì ciao. Che figura di me è. No, lei si sta dentro. Tanto sapevo che non facciamo stesso. Non facciamo. Non facciamo. Ma non deve fare tutto da solo. Che cosa sta a fare? Dove ti pensavi di andare? Scusa. Vai, fai qualcosa. Fai galanto, Delis. Fai galanto, Delis. Fai galanto, Delis. Una poesia, non alla bambina Delis. Ma no, la bambina. Vai in cura. Stavo nuotando. Sì, sì. Ah, per bene va. Ecco Piero. Dai Piero. Ma dai, scegli una a caso. Affホ, ciao. Francesco Piero. Questo un avichino che deve venire ancora. Beh, però molto bene. Letta.